good morning si qui sono le 11 e un quarto quindi come dico in questi casi non mattina prestissimo ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's february 17 2022 and it's first day here in naples i think a clear morning also cloudy but yes a middle morning in this moment i'm very still right now i suppose 52 53 fahrenheit around 12 celsius and this means that for me non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo e come sempre invito a vedere il mio video sul freddo del risale a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo che è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo sì per quanto riguarda il video sui pensieri come sempre nel caso lo faccio separato da questo quindi se vi interessa occhio anyway as you just see from the window i think that this afternoon it will be going up to i stessi gradi di adesso ma qualcuno in meno è difficile dirlo perché non si capisce bene ma credo che come ieri as yesterday we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente qui all along the way essendo già metà mattinata per qualche altre 4 5 ore però non ne sono sicuro perché come ieri è nuvoloso comunque non si capisce bene però credo di sì per cui bene così però vi aggiorno casomai nella descrizione più tardi per cui disanno questa luisia ricevVE alla biblioteca con il resto del corso sublime e oggi nulla ad a dire thank you and it's E gli... Greeeeeee... Roller shooter... Behand me On the top In the echelon e finalmente da un mitico keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 have a great day in all the people who follow the channel and the reports si un saluto davanti a tutti so again I'm a great day in all these people and everyone too